Benvenuti a Clatv. Nei mass media pubblici, gli articoli, video e commenti vengono cancellati nonostante la loro importanza dopo un tempo predefinito che varia tra 7 giorni e 12 mesi, e quindi tolto irrevocabilmente l'accesso ai loro utenti. Ma spariscono anche dei video attuali, per esempio quelli che illustrano criticamente il ruolo dei paesi occidentali rispetto alla crisi in Ucraina. A fine 2013, per questa cancellazione dispendiosa, sono stati farsino concessi ulteriori contributi dai canoni radio televisivi tedeschi. Concludiamo con una citazione di Friedrich Heppel. Ci vuole più coraggio per cambiare la propria opinione che per rimanerle fedele. Vi auguriamo una piacevole serata. Arrivederci.